Nel girone B del campionato di promozione Ligure, terza vittoria consecutiva del Don Bosco Spezia che al cima di Pagliari riceve e sconfigge con una rete del centravanti Cantoni la forza e coraggio. Con questo successo nel derby provinciale i Salesiani strizzano ormai l'occhio alla zona playoff nel raggruppamento dove tuttora è posizionato quel canaletto Sepor che nel frattempo si aggiudica al Tanca, la sagra del gol, finisce 4-3 ingaggiata con la Tarros Sarzanese. Quest'ultima da parte sua permane invece in zona playout insieme alla stessa forza e coraggio e anche a quel levanto di nuovo sconfitto stavolta sul campo della Calvarese. Per il resto, mentre con le immagini passiamo all'1-1 al Camaiora di Santo Stefano tra il Magrazzurri e l'APSM Rapallo. Si registra anche un gol annullato agli ospiti. Il Magra rimane in una posizione sostanzialmente di centro classifica, finisce a retti inviolate. Un altro derby provinciale è quello al Ferdeghini tra il Follo e l'intercomunale Beverino per quanto Ivi si giochi niente male. Al comando nel raggruppamento sempre un trio tutto genovese composto da Vallescrivia, Busalla e San Margheritese. Passando al girone D della prima categoria, con le immagini ci trasferiamo alla vittoria al Franco Cimma per 2-1 con doppietta di costa del Rio Major a spese del Segesta. Ma al comando solitario nel raggruppamento c'è un Marola Acquasanta che esce imbattuto con un 2-2 dal rettangolo di gioco del Casarza Ligure. Chiudiamo infine con il girone F della seconda categoria venendo a qualche flash dall'1-1 a Bolano tra la squadra B della Bolanese e Dilvezzano. In testa nel raggruppamento un tandem costituito dal Ceparana di cui vediamo alcune immagini relative al 4-0 inferto all'incerti Ceparanese allo Spezia Sportale dai Rossoneri e dal calcio popolare Spezia a sua volta vittorioso per 5-2 in casa davanti all'Under 21 del Magra Azzurri. Per concludere da rilevare perché ha qualcosa di clamoroso il 3-0 a cui passiamo con le ultime immagini del Lerici a spese del San Lazzaro Lunense.